Dove siamo? In quale posto è questo? Dai, parla Angelo, perché siamo in video. Sto facendo il video. Ecco, via Busiago, alla festa di Sant'Antonio. Ecco, bravo, grazie. Carata finale con i suocchi. Ecco. Wow! 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 Manistre Grossi. Sì, 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 sì. è ok, solo c'è un po' di più è un po' di più wow bello parang macho danse parang danse parang 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 ti kung maj luna ar yeah sí pat por parang pag tin Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.